salve benvenuti o bentornati sul mio canale per quelle che approdano per la prima volta io sono andrea benati digital content creator in pratica pubblico video su youtube ok come potete vedere dal canale gli argomenti che tratto sono vari da viaggi espocinofili intrattenimento eccetera ok il video di oggi breve riguarda la città di mato e i monumenti di mato se volete rimanete fino alla fine lasciate mi piace e iscrivetevi al canale iscrivetevi al canale iscrivetevi al canale ok ciao 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 alla prossima sigla ciao 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 ciao